Mentre tutto si muove, in Iliad, restiamo fermi. Restiamo fermi nella trasparenza. Restiamo fermi per farvi andare più veloce. Restiamo fermi anche quando tutto sale. Resteremo per sempre fermi nel nostro per sempre e nel nostro impegno. Con una connessione che vi porterà lontanissimo o vicinissimo. Come vorrete. Quindi sì, noi restiamo fermi. Per non fermarci mai. Iliad.